Codice creatore, decodattino abusivo, taggatemi su Instagram, il link è in descrizione è l'unico modo per fare i provini e seguitemi su Instagram perché io non dico tutti i giorni ma quasi regalo che vi bacse skin Quindi mi raccomando, Instagram, il link è in descrizione Ok ragazzi, scusate per l'attesa ma che stiamo osservando Bounty, non mettetemi la taglia in italiano Che c'è? Zeta, ci sei? Eh, ci sono, ci sono Ok, che c'è con te? Perché mi hanno invitato subito, accetto e guarda ho fatto Allora, com'è? C'è Manuel X Manuel X? Ok, bella Manuel X Ah, sei tu che l'hai portato? Sì, sì, l'ho portato io Zeta che ci fa? Eh, ma io, essendo il miglior giocatore italiano di tutti i tempi Vabbè, la stronzata l'ha già sparata, eh, manco neanche abbiamo iniziato Ma parla? Parli bro? Sì, ci sono Innanzitutto come ti chiami? Nome vero, così ti chiamo per nome, che è un po' meglio diciamo Prova a indovinare Eh, 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 che, che Qualcuno in questa lobby si chiama come va? Manuel, ti chiami, allora Gianfrancesco Diego Diego? Allora, ragazzi, è il mio preferito Un, ha detto Diego, è spawnato un lama Cioè, capite, raga? Capite la situazione? Che nome, bro? Questo è un nome da pro, eh Quindi, è un pro, secondo me è un pro Comunque, a parte gli scherzi, ma sei solo un fanboy? Oppure ti ispiri proprio e sei forte quasi quanto lui? Non dico quanto lui, perché è quasi impossibile Prova a essere forte come lui, però Provi? Allora, secondo te quanto sei forte? Allora, lui quanto è? Secondo te? Da 1 a 10? Ah, Marta sa 10 10, naturalmente, sei un fanboy E te invece? Sempre sulla stessa scala? Non lo so Non lo sai? Ok, 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 ok Non sparare cifre 7, stavi dicendo? 7 è tanto, eh 7 è... Ok, ci provo Manuel è forte, forte? Sì, forte, forte Vabbè, c'è qua Zeta per valutarlo, eh Ci sono anch'io Quindi, ragazzi, mi raccomando Popcorn, kebab, patatine Prendete quello che volete E gustiamoci insieme questo player Ci sono tutte le premesse per un video epocale Ha visto che sono entrati in ritardo come Zeta Ma ha un altro ritardo? Aveva kill? Aveva kill? Marco Bar Ma aveva... No, era free Era free, brughiere? Era free, era free Uh, attenzione Qua stanno fightando contro i bot Ce n'è uno Vediamo se se lo fa con l'aereo Allora, la mira dall'aereo non è proprio il massimo, diciamo E i bot lo stanno anche prendendo Bene Ma sta morando dai bot A chi? Ok, forse no Ok, non è male Allora Ok, prima hit ci sta Prima hit onesta Ma c'è qualcun altro? Perché i bot stanno sparando, eh Ma veramente preferisci questo pompa? Bro? È il pompa più forte del gioco Per te? Allora, è la prima volta, eh Dobbiamo dirlo, Zeta Da quando facciamo i provini Che qualcuno preferisce questo pompa Però bisogna capire anche perché preferisci questo pompa Eh, appunto Perché, bro? È strano, eh Allora A me piace molto perché Diciamo che è solido È solido? Il problema è che è lento, bro Dovresti avere un pin 90 Come secondaria, secondo me Per avere quella sicurezza, diciamo Esatto Infatti, di solito si usa il Questa qua, il pompa del drago È un tattico Pusha cattivo Pusha aggressivo Zeta, quale preferisci di pompa? Io Ragazzi Comunque il due hit che ha fatto con questo pompa Due distruzioni totali Ok, che non aveva vita l'avversario, però Ah, ragazzi Mi sono appena svegliato Confermate Ecco perché sono arrivato in ritardo Ok, gli ha tolto 100 E poi in fiamma, eh Adesso, per esempio Non poteva risparare, però Perché ci vuole un quarto d'ora Per ricaricarlo Diego, se noti questa pompa Puoi usarlo solo in uno stesso box Se stai a due box Sì, ma da dove? L'hanno cecchinato Comunque sì, è vero Perché ha un raggio d'azione Veramente corto È abbastanza osceno quel raggio Però Sembra la doppietta Come raggio d'azione No, forse un po' di più Della doppietta No, no, no Forse un po' di meno Di meno della dopp... No, Fran No, di meno della doppietta Un po' di più Eh, pure secondo me Ma che gioco giochi Zeda Per fortuna è più forte L'Italia Allora, non se... Ok, qua abbiamo una luto Non sembra male, però, vero? Sembra abbastanza veloce Abbastanza consistenza, eh È il giusto, è il giusto La mira è un po' da rivedere MK, bro MK, vero? Non ci siamo neanche conosciuti Un attimo Non ci siamo presentati Uno, quanti anni hai? Anzi, no Hai il PTT, so Quindi vai, vai 15, 15 15 anni Ok, ci sta Uh, quasi Ma sapete che io Questo cecchino L'odio Con tutte le forze Vero? Pure te È pazzesco È pazzesco Ma comunque MK MK, vero? Sì, sì Ok MK Quanti FPS fai? Secondo me Un 144 Easy, fissi 160 Hai un monitor 160 No? C'è il monitor 144 Arts Non li tengo E perché? Reputi che la cosa Sia più fluida Quando in realtà Il monitor Vedi soltanto 144 Arts Bisogna tenere Di solito Gli FPS Ha uno più alto Per refresh È la prima volta Che sento questa cosa Comunque sapevo Che questa cosa Funzionava bene Con i monitor 60 hertz Uno mette un po' di più Perché ti dà Quel senso di fluidità In più Però con i monitor 144 Non pensavo Funzionasse Cioè servisse Allora io Anche con i 240 Dovrei farlo? Eh no Perché tu stai Paragonando Due monitor Di fascia alta Basso e media 144 Non ci credo Oddio 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 Come si è salvato No ragazzi No ragazzi Qua allora Qua Z dobbiamo dirlo Ha fatto una gran giocata Si è salvato E l'ha preso anche al volo Questo pompa Ma quanto toglie? Ha fatto 100 in testa Sì sì Ok ma L'ha fatto 100 in testa Se non sbaglio Comunque ragazzi Che gran giocata Che gran giocata Dobbiamo dirlo Ma la ricarica Ma cos'è? Cosa? Ti fa anche loser No comunque è molto bravo È molto consistente Questo player Secondo me Z Poco spettacolo Ma tanta ciccia Tanta carne Tanta carne al fuoco Secondo tentativo Moli molesti Questa volta Niente pompa del drago A proposito di quel pompa Voglio farvi una domanda Anzi in realtà la faccio a te Diego Non la faccio a Diego Perché è l'unico che lo utilizza Quindi è l'unico che può rispondere Ma visto che per fare Delle hit Importanti e serie Devi stare proprio vicino Oggiungare nei box E quel pompa in fiamma Fa prendere fuoco alle cose Ma prendi anche te danno? Un minimo per forza? Sì sì Cioè quindi praticamente Te 3-4 Quando lo kill ti dà il 50 di vita Che te lo toglie Quindi non è un problema Ok ma In competitive bro In pubblica no E sapete che in creative Quel pompa non infiamma? Non capisco il perché L'avversario ha un charge Che è veramente pericoloso Nelle mani Degli scarsi Ok ok Prima kill Ok granate Ma? Da dove? Hai tutto Mi dice che hanno fatto Un po' i kamikaze Sì sì Un po' di erroristi Comunque hai tutte le cure Hai tutte le cure Per ripullarti Non so che armano Nell'inventario Non so cosa Ha un charge E una silenziata Ecco cos'hai Questo sta qua Non ti ho visto Ok Oh 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 Belle hit Questa la silenziata Sì sì ma come al solito Ma tu giochi molto In competitive bro Dai movimenti Sembrerebbe di sì eh Manuel? Sì sì Gioca parecchio Competitori Infatti ha anche 12.000 punti in arena Ok 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 Mi sa che il charge anche lo sai usare Lo sai utilizzare tutti i pompa per adesso L'abbiamo visto con il tac L'abbiamo visto con il charge L'abbiamo visto con il pompa del drago Diego comunque per quanto è fanboy Si è messa nella foto del telefono L'immagine di Martoz Addirittura Va bene lo capisco Zedà quella mia Cioè capisci I fanboy sono così Cosa no lo so che tu hai la mia I fanboy sono così Non puoi farci niente Io di chi? Gaggia la white E chi è? Eh come gaggia la white Eh l'eroina di tutti i maschi Chi è? Tu la conosci Manuel? No Fammi cercare Tu Diego la conosci? Ebbene La conosci? Allora ragazzi la devo cercare Ma io non la conosco Va bene evidentemente Tira delle hit incredibili con i pompa Comunque bro non posso che non notare Il fatto che tu abbia fatto più danno con il charge Finora che con il pompa del drago Beh come stile di gioco mi piace di più Il pompa del drago Però anche il charge mi piace molto Quanto hai di ping bro? Che non te l'ho chiesto? 30-40 30 E' tanto E' come Uh Si è tanto però Prattutto per giocare tanto in competitive E' come Uh Gli hai gioinato così? Uh Nice move Nice move Diego Diego a Faze Martos Te Manuel cos'hai? Manuel non ha il telefono E io ho la mamma di Jaren No cos'hai? A parte gli scherzi Cos'hai? Pelè orè Pelè? Io ti stimo bro Ma è il tuo giocatore preferito? Sinceramente è quello che mi ha sempre più ispirato Ok Te Z Lo conosci Pelè? Ho andi alla White No è la mia Ma conosci Pelè? Io si che conosco Pelè Chi è? Chi è? Dove gioca? Dai dove gioca? Ha giocato nel Brasile Come ha giocato? E' ancora Ma come ha giocato bro? Sta giocando Ma ora ha 80 anni Ma cosa dici? Fra Ma ha 30 anni Ma scemo Ma quale Pelè? Ma non stiamo parlando del Pelè quello L'altro fra Pelè gioca in Francia come portiere Ah mi spiace ma allora non lo conosco E poi l'italiano fra Ora però voglio sapere cosa avete voi come sfondo del telefono Scrivetelo nei commenti E più divertenti Più strani Più ambigui Vi metterò su Instagram Nelle storie Quindi seguitemi anche su Instagram Perché regalo Ok per V-Bucks e Skin Sono rimasti in 6 5 nemici Z Iniziamo a tirare le somme? Ma? Cosa? Cosa è successo? Con cosa ne hanno sparato? Un aereo Cosa ne pensi? Si vede che è fluido È molto forte fra Secondo me Sì è molto fluido È molto fluido Molto pulito Però vedi vedi Sa sempre quello che fa E quella è una cosa buona Ok ok Sì sì A differenza del buga falso Che rischiava Lui la rischia poco Cioè è sempre sicuro Esatto Vero E mi piace tantissimo È veramente Uno stile di gioco Concreto Poco spettacolare Ma secondo me Lui è anche bravo nel buildare Nell'editare Solo che non gli serve Cioè perché farlo Non ha senso Non ha senso dare spettacolo Lui è concreto Come ho detto prima Nella prima partita E mi piace tantissimo E secondo me Vederlo in competitive Sarebbe molto divertente È il player più bravo E più consistente Che abbia mai visto Fino adesso eh In questa nuova stagione Tra tutti i problemi Che abbiamo visto Lui è il più concreto Porca miseria No è fortissimo Sì sì ma mi piace tantissimo Raga Cioè la prima Ma bene raga Ma è mostruoso Sa anche dare spettacolo A modo suo Mi piace tanto Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Ma immagino che Potrebbe piacere a molti di voi Comunque è molto più difficile Che uno ti gassi Con questo stile di gioco No? Concreto Perché se uno arriva E ti fa 45 edit 77 build 7 strutture in Un secondo Ma io non ho parole Va bene Non fa niente bro Tranquillo Ho visto abbastanza Ho visto abbastanza No no Comunque stavo dicendo questa cosa Andiamo in lobby Voglio dire questa cosa Stavo dicendo Perché è facile Fare emozionare E dare spettacolo Facendo 75 build In un secondo Ma dare spettacolo E fare emozionare Giocando con criterio È veramente da pro Secondo me E poi bro Voglio rivederti Con il pompa del drago È z Da uno verso uno Pompa del drago Ci stai? Va bene Va bene Ci sta Voglio 5000 like Ma sempre Ma questo Infatti adesso Io farò l'intro Che verrà Ragazzi Viaggio nel tempo Grazie a tutti Grazie a tutti.